A Mascali si avvicina la seduta di Consiglio Comunale di giovedì sera, in cui si discuterà dell'ampliamento di un impianto produttivo che un anno fa fu oggetto della cosiddetta delibera 17. Adesso che Tare e Cigiano hanno dato ragione al privato, ritenendo legittima la richiesta respinta dagli uffici, il Consiglio è chiamato nuovamente ad esprimersi dopo che nel marzo scorso, con un atto di indirizzo, invitò l'amministrazione a ritirare il ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa. Adesso però non è chiaro la maggioranza cosa farà. Il caso è complesso e Luigi Messina vuole gestirlo con cura. Undici mesi fa l'atto di indirizzo rappresentò la prova di forza del gruppo Mascalice, che allora si schierò apertamente contro il ricorso al CGA e portò sulle sue posizioni tutta la maggioranza. Ma in questi undici mesi tanta acqua è passata sotto i ponti, Alberto Cardillo si è separato dai nunziatesi, anche se Luigi Messina sta provando nelle ultime settimane a recuperarlo. E fatta eccezione per Carlo Galati, gli altri due consiglieri di Mascalice, il presidente del Consiglio Giuseppe Priolo e Agata Cardillo, sono rimasti in questi mesi vicini a Messina. Il voto di giovedì sera resta profondamente incerto.